e buongiorno caposinos e benvenuti a questo nuovo tutorial io sono Enrique Farmer ed è benvenuto nel mio canale oggi ragazzi siamo qui per testare anzi per testare a fare un piccolo e breve tutorial riguardante appunto la gps mode gps mode che è uscita qualche giorno fa nel mod hub mode solo per pc e o mac appunto quindi non c'è per console purtroppo però insomma diciamo che è già tanta roba sta moddina mi dispiace per gli amici di console però non so penso che sia la possibilità di avere anche da voi la gps vediamo se qualcuno riuscirà a farla però nel caso porterò un piccolo tutorial aggiornamento se no pazze e viene non so non so cosa fare l'autore comunque l'autore della mod è webster che ringrazio tantissimamente per aver pubblicato sta benedetta mod così da aiutarmi nelle mie lavorazioni che sarà molto saranno molto molto più tranquille molto molto più easy per virgolette però detto questo bando alle ciance iniziamo a vedere come funziona questa gps mode allora vi mostrerò principalmente quattro lavorazioni comunque con la ratoro con l'herpice con la seminatrice come vedete con la trebbia più o poi dovete giustarvi voi cioè vi mostro il basi come si fa poi è uguale dappertutto quello principale sarà questo qui con il doiz con l'herpice poi gli altri le altre tre lavorazioni nelle altre tre lavorazioni andremo un po più spediti perché appunto qui mi sono già spiegato per cui non è complicato cioè quando lo capite qui è uguale dappertutto allora iniziamo intanto salendo sul doiz anzi cosa importante prima di iniziare è comprare il trattore con la gps ovviamente quindi quando voi andrete ad acquistare un trattore che sia piccolo grande anche una trebbia una trincia non ha quali patate e un qualsiasi cosa anche una falciatrice soprattutto questo qui della cron ovviamente prendiamo un trattore medio a caso questo qui jcb ok quando voi andrete ad acquistarlo vedete che sopra la targa c'è gps ovviamente dovete mettere sì che vi costa da 15 mila euro in più però avrete la gps vedete se non vuoi se voi non selezionate sì e non acquistate il trattore con la gps appunto evidentemente potrete modificarlo poi nella nell'officina che c'è nello shop oppure se avete posizionato un vicino un'officina nella vostra farm potete potete farlo ma se volete evitare ciò quando comprate un trattore selezionate sì su gps vi aggiungono il gioco vi aggiunge 15 mila euro che appunto il costo dell'installazione tra virgolette della gps e poi avete già trattore con la gps per vedere se avete già la gps cosa volete fare dovete no non voglio avviarti dovete vedere in basso a destra sopra il cambio vedete ci sono tre icone e la gps sarà presente nel trattore per avviarla cosa dovete fare alt c vedete che si accende ok si accendono i primi due icone diventano azzurre per vedere il pannello comunque come impostare la larghezza di lavoro impostare le linee insomma se devono stare più in là dove stare più in qua e dovete cliccare contro l'esse qui serve appunto il pannello allora tanto qui dovete selezionare la ragazza automatica e automaticamente il gps vi rileva misura l'attrezza che in che state utilizzando e vi imposta la larghezza la larghezza se volete vedere se la tre le come se volete vedere come le linee ecco di lavoro basta che voi facciate mostra tracce ok e andate avanti un po vedete che c'è una linea intanto per vedere la ragazza di lavoro come facevo in una old farm quindi con una linea da una parte né dall'altra comunque che vi delimita la l'area di lavoro del vostro attrezzo dovete appunto fare tanto come siamo attiva guida in si qui dovete fare dovete registrare appunto un percorso quindi fate imposta ok abbassate andate avanti basta carabba del genere easy poi se volete fare tutto dito fate pure però faccio anche così cambia niente contro resti imposta b ok track name mettiamo erpice e pv erpice erpice e poi fate aggiungi traccia ecco qui che vi aggiunto la traccia erpice vedete voi adesso avete due linee una blu da una parte una blu dall'altra una blu al centro che vi delimita il appunto la raghezza di lavoro e l'area in cui verrà svolta l'area l'epicatura per attivare la gp e la wind steering deve fare sì ok ora attivata non deve ben sia anche un tasto in teoria al c io mi hanno impostato un tasto non mi ricordo che ogni volta così è un po una rotura di palle quindi in caso andate qui e dovete trovare gps ovviamente in tasti gioco veicolo radio power tools no allora questa qui guida steering per attivare esattivare steering alt x poi potete selezionare un altro tasto appunto che sia un tasto della tastiera o un tasto del banco del joystick io metto questo qui per dire se si può gamepad ok quindi mi vado meglio poi è uguale with steering che eccola qui ci devo fare attiva with steering faccio così ls che è il analogico sinistro quindi faccio così tac l'attivo e il trattore praticamente parte poi se voi volete spostare le linee vedete da un più a destra più a sinistra dovete fare alt pagina più o alt pagina meno vedete che si spostano da destra a sinistra in base a comunque a quanto volete stare in là a quanto volete stare in qua poi se voi volete togliere appunto le tracce fate mostra tracce no e non si vede niente e lui va tranquillo se volete disattivarlo o potete rischiacciare di nuovo il pulsante che avete selezionato voi per se si attivi comunque vedete che perché la gps si attiva in pratica voi dovete vedere che la traccia centrale diventi verde e si accende e si diventi azzurro l'ultima icona delle tre praticamente per dire appunto di attivare c'è o alt x se non volete cambiare nel tasto oppure se volete cambiare un tasto non so mettere il tasto 1 1 forse no se volete un altro tasto che non so invio o l'emme o l'enne o la virgola quel caso però che volete fate pure poi voi cliccate quel tasto e vi si pare vi si attiva automaticamente ecco quindi mi attiva e lui da qui e se segue questa traccia qui poi io arrivo fu in fondo tac alzo lui si disattiva ovviamente quando riesco dalla traccia mi giro io la riattivo e lui si mette già in linea con le altre cose come con la ragazza di lavoro che ho dato prima insomma finché il campo si è tutto quanto al piccato poi se voi volete cambiare la ragazza di lavoro so mettere più stretta potete farlo cioè avete la possibilità di cambiare per ogni centimetro ok poi avete ogni 0 5 centimetri un decimetro vedete vi passa da così da dieci ai 10 10 0 5 e da un metro metro 6 5 4 insomma e poi basta poi in caso vi compaia questa cosa qui ovvero il valore valori del incremento offset voi fate indietro e per ti che sempre delle volte c'è una linea rossa che viene messa qui se voi volete toglierla basta che fate questo testo qua e vi si rimuove che non ho ben capito cos'è sto offset però vabbè insomma tarlasciamo questo fatto ecco allora detto ciò diciamo che si può continuare con un altro mezzo intanto qui possiamo piccola piccola cosa se voi avete la gps attiva non si può mettere all'operazione ecco vedete io sto schiacciando il tasto b affinché volete l'operaio non non viene inserito per inserire l'operaio dovete disattivare la gps e o spegnerla con icon alt c la spegnete con alt ctrl s appunto attivate il pannello e con alt x la accendete piccolo recap dei tasti li allora se vuoi spendere tutto quanto potete mettere l'operaio vedete questo passiamo al alla trebbia che è importante che dobbiamo trabbiare il campo allora possiamo che spegnerla la accendiamo dopo adesso senza distruggere il raccolto vorrei prendere la barra ce la possiamo fare no qualcosa verrà distrutto peace and love senza buttare giù tutto ok gli spieghiamo già ragion di r ok a posto allora ora com'è che si procede praticamente cosa si deve fare allora stesso procedimento di prima contro il c accendiamo la gps ok contro la s apriamo apriamo il pannello facciamo larghezza automatica e la larghezza del gps misura che la barra misura la ripetizione 7 metri 60 bene noi andiamo appunto qui sotto nella seconda parte facciamo in posta andiamo avanti non preoccupatevi che sia storta no perché mi ha impostato la lì a invece non è lì a a è qui ragazzi allora siamo così in posta b non è giusto posta di nuovo ok a è qui andiamo avanti impostiamo b facciamo scriviamo un nome della traccia appunto tre john dee potete mettere o quello che volete o trebbia insomma dipende quali volete mettere fate salva così vi salva la traccia e quando voi andrete a scegliere volete terbiare ok aprite la gps andate qui sotto appunto e dovete scegliere la traccia così affinché la gps sappia che larghezza di lavoro deve scegliere tutte le posizioni che avete dato quindi mettete john deere io qua lascio mostra tracce ok vedete che sono attive come tasto l'attivo e lei parte lei va tranquilla e non volevo potete anche fare tutt'altro sovrappare il telefono rispondere ai messaggi se vedete un campo lungo potete lasciarlo andare e lei va avanti dritta e se stai sicuri che non cano sbaglia cioè non sbaglia non sbagliato non sbagliato non va più in qua non va più in là rimane fissa ovviamente non ha un costo allora se i soldi diminuiscono perché c'è l'opera io ecco sia chiaro lei va avanti tranquilla poi ovviamente conoscete arrivati in fondo voi dovete un attimo fermarvi fare inversione eccetera eccetera già io mi fermo alzo muovendo le ruote posteriori o anteriori dipende nel mezzo che avete si disattiva appunto poi vado qua mi rimetto indietro la riattivo e sì e se non fossi diritto come nel come se non fossi lì diritto praticamente o comunque fossi magari più in là del centro delle linee l'automaticamente il gps mi mette in posizione vedete io sono diritto ora se mi fossi messo messo più a destra mi avrebbe il portato attraverso manovre diritto come deve stare adesso quindi tu vai voi andate avanti indietro fate il campo lo trabbiate lo arate del piccate lo seminate lo trinciate dipende che la lavorazione volete fare potete anche utilizzarla per la raccolta del bieto delle patate il canale a zucchero dei vignetti non penso onestamente e segui potrebbe provare magari in un prossimo tutorial mi sembra che anche un tutorial riguardante la gps in viticoltura e o olivicoltura così olivi buon andate avanti qua imposto gps lei via dritta tranquilli uno schiaffo tra un wheel e vi ho detto qui tra un wheel leva a trebbia senza bengi easy modo molto utile mi sarà presenti in tutte le miserie quindi momentaneamente non c'è vedrò con una pena avrò i soldi qualche trattura la inserirò tipo tutti però ovviamente uno alla volta nella hand click sicuramente sarà il john dire avere la gps e con quello andremo a trabbiata per esempio andremo a seminare e a erpicare molto probabilmente gli altri non dire quello più nuovo il resto magari lo potremmo utilizzare per i carri ecco l'altro per gli altri due quindi magari vende uno possiamo anche venderlo però piccola news ieri mi è arrivato il processore signori quindi non appena avrà tutti i componenti direzione agrenic e si monterà il pc nuovo quindi non manca molto non manca molto signori l'attesa sta per finire l'attesa è quasi finita boh detto questo ragazzi passiamo l'ultimo anzi gli ultimi due quindi possono pure spegnere e disattiviamo la gps andiamo nella seminatrice quindi quasi finita piaceremo che finisca andiamo nell'aratro nel trattore bisogna dire con l'aratro ok qui stessa logica non cambia niente praticamente cioè uguale per tutti vi mostro quattro cose diverse appunto per farvi capire che è uguale boh contro il si attiviamo al test apriamo il pannello ragghezza automatica boh 3 metri 25 sotto qui posta abbassiamo andiamo avanti un pelo boh posta b cambiamo nome aratro ora 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 tro ok saliamo traccia clicchiamo aratro ok attivo posto lui va dritto adesso e non devo più starla e occhio di stare pilla ma che lo strada di quasi voglio stare più a sinistra e per esempio fatto alte s pagina più la linea si sposta e sto più in più in dentro la c'è stato così boh massimo no qualche oggetto troppo puoi stare più un po' più fuori boh alt pagina sotto e si le linee si spostano più a destra niente di complicato tutto tutto molto molto easy vedete pam ora io guardo in fondo mi giro torno indietro si trova ovviamente il link della gps in descrizione per scaricarla se volete boh metto qui la cosa gps solo si mette dritto come deve stare per rientrare tra le due linee abbasso e vado avanti ad arare e si arara tranquillamente cioè è molto più tranquilla la cosa non dovete stare lì occhio stare più l'occhio stare più qua cioè è molto più veloce questa cosa cioè siete sicuri che non lasciate pezzi non fatti indietro e mentre i primi i primi due giri se voglio poi dovete aggiustare un attimo la mira ovvio che sono un po più magari possono avanzare di pezzi perché di te devo stare più in quadro stare più in là fate un attimo delle prove ma quando avete trovato il giusto modo di fare di utilizzare la gps comunque la giusta larghezza e la giusta ampiezza di lavoro si va tranquilli poi appunto se avete problemi con i commenti o in direct io vi aiuto sicuramente da una mano anche se non è complicata come cosa c'è vedete c'è easy so so easy rega rega sto so easy ecco magari mi manzo un pezzettino vabbè posso farlo dopo oppure qua troppo in là spostiamo un po e si va avanti così avanti indietro avanti indietro e si era o tutto il campo sia erbico si semina come dipende dalla lavorazione di anche il tuo e se ho definito poi facciamo anche la semestrice poi ci concludiamo il video che mi sa che è durato anche un po abbastanza onestamente anche per un tutorial allora andiamo in fondo apriamo sapriamo giriamo diriamo che la rattro ovviamente e dico ha imposto la gps e lei essere mi metterlo dritto automaticamente e le fam bambia ciara tornando a randu a posto niente di complicato speriamo tutto grazie qui lasciamo lasciamolo pure finito 26 e ma sei la mettiamo giù spegniamo accendiamo il massi ferro zone attendiamo il gps ovviamente della giaccia che c'è la linea comunque mi ripeto se volete dire attivare linee potete pure farlo io faccio per comodità per vedere dove sta andando se si seguo bene il tutto vado dritto soprattutto ma detta in normale soprattutto le inizio le linee sono utili per capire come state andando e poi per capire se la ragazza di lavoro rientra invece se faccio tutto il campo praticamente curano la gps attivata alta s alta s perfetto imposta a boh imposta b qua mettiamo seminatrice salviamo a no vabbè facciamo fare così seminatrice tac clicchiamo qui facciamo ragazzi loro automatica torniamo qui e questo qua saliamo sopra per cui ora ha salvato i sei metri di larghezza di lavoro vedete infatti eccoci qua sei metri noi adesso la accendiamo la gps e seminatrice abbassiamo e sta lei sta seminando io posso fare tutt'altro lei semina in tranquillità proprio senza pensi io posso fare tutt'altra cosa lei si giuro che lei il trattore va dritto mi simile tutto il campo poi si avanza qualche pezzettino ave posto tornare indietro non lo sistema senza problemi però e capita raramente poi anche dipende da persona persona sia chiaro e anche quanto state in lima di 11 postale pilla poi vi accorgete che siete troppi lì quindi il ma non pezzettino ovvio che dovete tornare indietro e disseminarlo oppure potete lasciarlo lì insomma poi lì va per cambiare la persona persona quindi ragazzi spero di questo tutorial vi sia stato utile vi sia oltre anche piaciuto un po il video vi ricordo di iscrivervi al canale lasciarmi un piaccio e condividere appunto questo piccolo e breve non so piccolo tutorial ecco gli temi ci vedete anche tutorial riguardante la viticoltura in la gps in viticoltura e in olivicoltura vi ricordo di iscrivervi al canale lasciarmi un piaccio e condividere i video su instagram facebook e twitch c'è tutti i link che trovate in descrizione vi ricordo anche di comprare farming sui 22 del link in descrizione per l'utilizzo del mio college partner di farlo tutto maiuscolo vi ricordo inoltre anche di acquistarlo eventualmente da instan gaming o anche da instan gaming potete acquistare anche altri giochi scontati e abbonamenti venite ragazzi noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video ed è di che famora è tutto al prossimo video ragazzi e ciao agricoltori